E quindi è diventato scrittore. Bravo. Ogni tanto tornerà per le vacanze, magari per vedere i suoni. Ci criticherà ferocemente perché lui vive nella civiltà. Ma una cosa non sa. Che questa terra come la Ionia di Eraclito è una sagora e magica. E richiama sempre coloro che gli appartengono. Come se esercitasse un diritto. La legge dell'appartenenza. E anche per lui un giorno inevitabile, il ritorno. Sarà il clima, la luce, l'aria. Comunque, una granita di mandorla.